L'isola di Ischia dopo il terremoto del 21 agosto, quale tipo di ricostruzione possibile e sostenibile, Gigi Lista? Ne state parlando, ne state discutendo? Sì, ho partecipato a un workshop di progetto Ischia, proprio con dei professionisti che parlavano di come si poteva ricostruire, in quali zone, in che modo, facendo degli esempi importanti. Penso che questo sia un discorso molto maturo, oggi Ischia si gioca all'opportunità, a livello sia turistico ma umanistico, di come si può ricostruire una comunità. La comunità di Casamicciola Alta con il fango è una comunità che non si può perdere, è una comunità di persone che viveva lì da anni e che comunque bisogna ridare di nuovo lustro, ma bisogna ricreare proprio la comunità, è un microcosmo che non può sparire dalla mappa geografica di Ischia, se no è una sconfitta per tutti quanti noi. Questo workshop sta facendo capire che in bioedilizia si può costruire dei veri e propri interi quartieri, può ridare sicurezza e quindi può far stare in sicurezza le persone di domani nelle loro zone. Naturalmente tutto questo, oltre ad avere un costo sotto all'aspetto economico, deve avere un costo anche sotto l'aspetto politico. Per la prima volta si paventa un'unione di intenti per risolvere il problema. Oggi io faccio un appello ai terremotati ad uscire fuori. Non diventate una merce di scambio nelle politiche tra PD e Forza Italia, perché in questo preciso momento loro si stanno vendendo la vostra partita sotto l'aspetto campano per la questione di voti. Invece voi dovete uscire con la vostra idea e questi workshop li dovete andare ad ascoltare, perché dovete prendere questi concetti dei professionisti che possono illuminarvi e voi dovete poi decidere di che fine volete fare, perché se voi vi dimenticate della politica, la politica non si dimenticherà di voi purtroppo.